Tornata elettorale ricca di nomi, quelle in vista delle prossime amministrative del 4 ottobre a Vittoria. Candidati a sindaco, come tradizione vuole che non saranno, in numero inferiore a 6 con conseguente probabile balottaggio. Attualmente restano confermati i nomi di Francesco Aiello, rappresentato da Azione Democratica, Sorgi Vittoria e Movimenti Civici. Luigi Mellilli, con la sua lista contro tutti e Salvatore Di Falco, già nel pieno della propria campagna elettorale. In sospeso, almeno altrettanti candidati. Uno, quello del centrodestra, che si dice unito e compatto nel dialogo e confronto con la città. Con una nota stampa unitaria, i rappresentanti del centrodestra e Parino sono intervenuti sull'attuale fase di confronto politico e programmatico in seno alle forze che compongono la coalizione che si è presentata alle prossime elezioni di ottobre. La fase attuale è di confronto su divisione e ascolto. Stiamo discutendo, affermano tramite comunicato congiunto Dieli, Salemi e La Rosa, con le forze della città in primis sulle esigenze, sui programmi e sui uomini e le donne che dovranno incarnare un percorso di rilancio dell'economia di Vittoria Scoglitti. Il compito è talmente arduo, prosegue la nota, che occorre la massima condivisione per arrivare a una piattaforma condivisa di programmi e intenti. Soltanto passando dal confronto con la città si potrà trovare la necessaria sintesi. Non è una questione di nomi, di ambizioni personali, di titoli sui quotidiani. C'è in ballo il futuro di una comunità di oltre 60.000 persone. C'è in ballo il futuro dei nostri figli, di migliaia di imprese, di famiglie che attendono risposte e servizi. Nonostante quindi sia ancora tutto da decidere sul nome del centrodestra, resta sempre più accreditata la figura di Nello Dieli che dovrebbe sciogliere le riserve entro già la prossima settimana. In sospeso anche la posizione di reset vittorie del segretario Alessandro Muñas, così come quella di articolo 1, ovvero di Giuseppe Fiorellini, che potrebbe decidere di appoggiare il programma di Francesco Aiello, messo alla porta dal Partito Democratico dopo la recente assemblea, ma subito ricontattato per avviare ulteriori dialoghi. PD che comunque ancora discute con il Movimento 5 Stelle in cerca di una candidatura unitaria. Attualmente due le figure in gioco, quella di Pippo Gurrieri e l'altra di Pippo Re. In totale quindi non meno di sei possibili candidati alla guida di Palazzo Iacono di Vittoria, mentre mancano esattamente tre mesi alle elezioni. Grazie. Grazie.